Vi ricordate quel bellissimo film che si chiamava Fuga per la vittoria con il grande Pelé e Silvestre Stallone e altri attori straordinari? A un certo punto quando c'è la partita fra la scuola tedesca e il resto del mondo al mistaggio c'erano due crucchi che alzavano il volume del pubblico per far vedere che partecipava allo spettacolo e dato al pubblico era ammuturito. La stessa cosa è accaduta in campo musicale, il 90% dei live che esistono sono tutti cammuffati in studio, vengono alzati i volumi, vengono ripudi delle chitarre, vengono alzate un po' più le voci insomma di concerti veri e propri 100% ne esistono davvero pochi. Uno di quelli che si sono salvati è questo spettacolare concerto a Tokyo dei giapponesi Loudness, il più grande gruppo giapponese di hard rock con Akira Takasai alla chitarra, Masayoshi e Macera al basso elettrico, Minoru Niara alla voce e Monetaka ai guci alle percussioni e batteria, quattro furie, quattro tora tora e adesso vi faccio ascoltare la solo di batteria di Monetaka, il povero Monetaka che purtroppo ci ha riuscito a fare qua. Vai, vai! Bonetaga Banzai Gucci ragazzi uno dei più grandi battalisti della scena arte della storia e questo live dei loudness di questa stampa originale è una macchina da guerra infernale per lo straconciglio